Era una spada lunga, aveva un attacco bluastro simile a Soul Geyser, più una vampata di fuoco, spada della notte ardente, a questo punto io mi tolgo il dubbio insieme a voi. Vediamo un po'. 25 intelligenza, 36 a fede, porca miseria, che bello il PG di mira. Ce la equipagiamo un secondo. Eccola qua. Postura, notte e fiamma. Ma cosa? Ahahahah! Prende anche il colpo! Prende anche il colpo fisico! Ahahahah! Ahahahah! 800 danni! E io mi voglio togliere Pestone Brinoso. E io mi voglio togliere Pestone Brinoso. Grazie.